Sia l'acquisizione dell'ex Cinema Verga per farne un centro congressi, l'assessore alla cultura di Siracusa Fabio Granata condivide l'idea dell'ex assessore regionale Bruno Marziano di usare la struttura già sostanzialmente pronta situata nel cuore della città. La Camera di Commercio dice Granata studi una formula per acquisire dalla provincia regionale il Verga con un completamento semplice e realizzabile meno di un anno donando a Siracusa un prezioso contenitore di eventi. Diversa l'idea espressa da Progetto Siracusa attraverso il suo portavoce Zecchia Paolo Reale, favorevole a un confronto pubblico sulla individuazione nel territorio di Siracusa di un'area per la costruzione di un moderno centro congressi che la Camera di Commercio del Sud-Est ha annunciato di voler realizzare. L'esistenza di tale struttura, dice Reale, rappresenterà infatti un'importante possibilità di diversificazione della nostra offerta turistica legandola ad aspetti di destagionalizzazione che favorirebbero non soltanto il comparto ma tutta l'economia della città. È però giusto esprimere subito la nostra perplessità prosegue Reale sull'ipotesi avanzata da più parti di utilizzare a tal fine l'ex cinema Verga, sia per le ovvie ragioni di tipo logistico, essendo già sufficientemente caotica la situazione a Ortigia, sia perché il centro congressi dovrà servire le esigenze anche degli altri territori limitrofi quali quelli di Catania, Ragusa e altri, diventando così un prezioso baricentro, un'occasione secondo Reale da sfruttare perché sia volano per lo sviluppo economico della città.